Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, a Villino. Ecco, direttore, dove hanno sparato? Allora hanno preso lì, dalla finestra, ha bucato il muro. Quindi, colpi di fucile che hanno infranto la finestra? Da una carabina. Da una carabina, questo è il suo ufficio, il ufficio del responsabile. Il pieno ambiente. E poi abbiamo un altro colpo, ecco, stia tornando a sigillo. Allo stesso fuoco, quello là. Allo stesso fuoco, è andato di qua, a Misa, è andato di qua. Guardate, questo fuoco è qua. Quindi quanti colpi? Quattro colpi, adesso faccio altri tre colpi che hai sparato. Sì. Siete preoccupati per questa raffica di colpi di fucile? Comunque la raccolta, noi comunque l'abbiamo. Ecco qua, uno, due e tre. Comunque noi la raccolta, lo stesso l'abbiamo effettuata. Perché essendo la società, il PNM, è una società che ci lavorano professionisti, nel mestiere. E quindi non è che ci è indiponito tanto. Quindi noi abbiamo continuato a fare il nostro dovere. Tanto vero che il camion è andato a scaricare il vetro. Giorni fa comunque c'è stato un altro attentato, un altro compattatore incendiato. Alle cinque e mezza hanno incendiato. Alle cinque e mezza del mattino. Siamo di mattina, hanno incendiato un compattatore che fortunatamente, date che noi siamo abituati a venire al lavoro sempre un quarto d'ora e quinte minuti prima, e quindi siamo riusciti a domare l'incendio. Questa mattina invece ancora... Alle sei, alle sei. Avete telecamere della videosale? Noi qua ci dovevamo spostare, quindi abbiamo tolto le telecamere. Però adesso ci stiamo organizzando a ripristinarle di nuovo, e quindi in settimana, senza altro, faremo... Riesce a darsi una ragione, una spiegazione di questo? La ragione è una ragione che possiamo, mi riesco a dare, che condanno, diciamo, l'attentatore o chi se o sia, che questi qua hanno la mentalità di tanto tempo, di trenti anni fa. Se voi andate da Cerra, quando fanno tipo del genere, fermano i camion e se lo prendono da mezzo alla strada. Cioè è bello mettersi su una collina, lo scuro, che non ti vede nessuno sparare. Quindi hanno sparato da una collina. Da una collinetta. Di cui anche la polizia, grazie alla polizia, ma è come questa volta, ha riuscito a trovare i bossoli da quella collinetta là, guardate, ha sparato. E quindi hanno trovato i bossoli, che ha sparato i quattro colpi, che ha sparato. Certamente non fa onore né a noi né al ballo di Laura. È una cosa vergognosa, che noi prima come cittadini ci vergogniamo. E ci... di queste persone... Ma che cos'è? Racket? Oppure concorrenza? No, finalmente non abbiamo avuto nessuna... Nessuna... Bussata. Nessuna segnalazione. Giustamente queste persone comunque vanno emarginate. Ci stanno comunque più controlli. Ci stanno, ma purtroppo i controlli che ci sono. Certo è un segnale comunque inquietante. Non portano a nessuna cosa, perché come impatti, quando incendiarono, hanno sparato, hanno rubato degli scavatori qua, la ditta che stia pulendo i lagni, hanno incendiato un'altra persona, hanno mostrato un altro commerciato, sempre durante questi controlli. C'entra la camorra, secondo lei. Ma non lo so, perché non mi so spiegare questa... Certamente una persona per bene non fa queste cose.